carissimi carissime youtuber benvenuti e benvenute a questo video oggi ho deciso di dare anche le mie idee o meglio rispondere a chi non ho risposto direttamente perciò facciamo finta che questo di oggi sia un po un ratatouille un po di tutto con gli avanzi e cercherò così anche di dare il mio parere perché non sempre mi permetto di rispondere o meglio non riesco a rispondere a tutti a volte non rispondo anche perché le risposte esistono in tante traduzioni che ho fatto Dino Tinelli ha deciso di regalare agli italiani o meglio a chi conosce solo la lingua italiana dei video che diversamente non riuscirebbero a vedere Dino Tinelli oltre a tradurre i video si occupa di piscine ed oltre a questo ama da molto tempo dal 1975 fa teatro ho iniziato a Gardaland facendo il cowboy con Febo Conti gira qualche fotografia mia col reggiseno e le mutande in testa è una bellissima rappresentazione che si chiama niente sesso siamo inglesi dove ho fatto la parte di Nidam il quale si trovava con delle ragazze bellissime Anna e Cristina in una notte un po osè come dicevo si chiama ratatouille questo video una utente mi ha chiesto perché traduci i video cosa pensi che gli italiani siano deficienti allora innanzitutto gli italiani sono un popolo meraviglioso sono bravi sono intelligenti è un popolo che amo l'unica differenza è che gli italiani sono stati tenuti volontariamente nell'ignoranza perché è uno dei popoli dei pochi popoli che oltre all'italiano non sa niente di conseguenza perché traduco ho scelto di tradurre i video solo per portare a tutti specialmente alle persone che hanno la mia età o di più o anche meno che non sarebbero in grado di venire in possesso e di comprendere determinati video pertanto il mio desiderio è portare a queste persone la conoscenza facile e tanti me lo dicono me lo scrivono di conseguenza penso che questa cosa che ho scelto porti del beneficio alle persone poi ognuno è libero di lasciare il canale nessuno è obbligato nessuno è obbligato a seguire quello che dicono i video questo ratatouille anche perché mi sto rendendo conto sempre di più che youtube è un contenitore che porta veramente dell'immondizia ma non è questa perché uno ha le idee che gli hanno iniettato dentro oggi in particolare voglio affrontare il problema dove vengo additato facilmente dell'effetto coriolis effetto coriolis è una cosa che dimostrano con delle cose pazzesche lo dico veramente pazzesche perché questo per un motivo molto ma molto semplice prendiamo questo portale di scienze qualcuno è in grado di risolvere questa questione il flusso dell'acqua che scarica da un labandino gira in sensi differenti in base a quale emisfero si trova e se sì perché leggiamo questa attestata scientifica cosa dice fred decker un emerito professore di scienze oceanografico e meteorologico dell'università dello stato dell'oregon dice veramente dubito che la direzione dell'acqua di uno scarico non sia altro che accidentale causata da come inizia il flusso i diversi movimenti locali dominano l'effetto coriolis che non è rilevabile robert ehrlich fisico dell'università george mason espone questa idea i lavandini scaricano in direzioni diverse nei due emisferi se prima avete preparato il lavandino sì per ogni lavandino normale è come quello di casa no infine thomas amprey uno scienziato senior dell'exploratorium di san francisco espone dettagliatamente e mostra le ragioni per cui non vediamo come lavora l'effetto coriolis in un lavandino c'è una nazione africana dove gli imprenditori preparano un lavandino o due per delle manci dimostrano che a seconda di dove si trova il lavandino rispetto alla linea dell'equatore l'acqua gira in direzioni diverse si tratta solo di uno spettacolo non è un effetto reale sì esiste l'effetto coriolis ma non è in grado di dominare il flusso d'acqua specialmente nell'equatore dove è tebole allora prima di fare un video generalmente è anche utile andare a fare delle ricerche cosa che mi sembra qualcuno non vada a fare lo troviamo anche in testate italiane è conoscenza diffusa che l'effetto di coriolis influenzi la direzione di rotazione dell'acqua che scola dal lavandino in senso anti orario nell'emisfero boreale in senso orario in quello astrale a vi ricordo che questi sono sostenitori dell'effetto coriolis di conseguenza sono enti che dichiarano che esiste l'effetto coriolis cosa cui personalmente di notinelli non crede avendo fatto il mortaista e non avendo mai dovuto affrontare questo problema nel lanciare i proiettili ed eravamo una squadra molto ma molto incapace in alcuni paesi a cavallo dell'equatore viene a volta presentato ai turisti un esperimento che dimostrerebbe come spostandosi di pochi metri a nord o a sud della linea equatoriale cambierebbe il senso di rotazione di un vortice in una vaschetta ma si tratta di una leggenda metropolitana la quantità d'acqua che scende dal rubinetto è troppo poca perché l'effetto di questa forza sia dello stesso ordine di grandezza di altri fattori come la geometria della vasca e dello scarico l'inclinazione del piano e il movimento iniziale dell'acqua ripetere più volte l'esperimento su un singolo lavandino e ottenere sempre lo stesso verso di rotazione può trarre in inganno in quanto esiste un errore sistematico dovuto alla geometria specifica della vasca i turisti dell'equatore allora basta imporre un leggero movimento rotatorio nel senso desiderato muovendo opportunamente ed impercettibilmente la vaschetta per ottenere l'effetto desiderato e ingannare l'interlocutore certo pensate un po cosa vanno a scrivere sempre questo questa testata scientifica italiana certo è possibile osservare l'effetto coriolis anche a casa prendendo una vasca piatta e circolare con uno scarico piccolo e liscio avendo cura di attendere che l'acqua sia perfettamente ferma e stappando con cura tuttavia bisognerebbe lasciare a riposo l'acqua per alcuni giorni in una stanza sigillata e lontano dal passaggio di mezzi pesanti perché le correnti d'aria barometriche i moti vorticosi interni del liquido le vibrazioni indotte da un camion hanno all'incirca lo stesso ordine di grandezza del fenomeno che si vorrebbe osservare il che falserebbe l'osservazione grande eh andiamo avanti voi pensate che si possano mischiare le carte presentando un video io dico di sì seguite che cosa ho tradotto in questo piccolo spezzone di video nel modello della terra piatta la gravità anziché essere una forza è l'accelerazione verso l'alto della terra piazza la terra accelera sempre verso l'alto ad un g che è l'equivalente all'accelerazione gravitazionale del modello del globo terrestre io penso che se uno ha visto e ascoltato questo dirà accidenti strana questa cosa della terra piatta è facile ingannare basta solo togliere dal video la parte iniziale eccola la società della terra piatta è costituita come unità di contenimento alcuni portano avanti le verità su alcune cose ed altri mentono su altre in questo modo fanno apparire cose ridicole oppure vi incanalano in direzioni sbagliate per esempio questo è quello che fes dice sulla gravità ovviamente cambia tutto non credete desidero ringraziare tutti e tutte di essere qui vi abbraccio vi voglio bene di cuore al prossimo video tante cose belle a tutti e a tutte grazie